Musica Buonasera, in apertura la nuova fiammata di contagi, quasi 4.000 i casi nelle ultime 24 ore ed il sistema sanitario italiano torna sotto pressione. I servizi sono di Letizia Davoli e Vito Dettorre. Schizzano i contagi per Covid in Italia, oggi sono 3.678 nuovi positivi, ben mille in più rispetto a ieri. Un numero che arriva da un record di tamponi, oltre 125.000, ma sono cifre che non si registravano da sei mesi nel pieno della prima emergenza pandemica, 31 i morti. Il contagio cresce ed è necessario alzare la soglia di attenzione, ha detto il ministro Speranza. La situazione oggi è seria e delicata. Nessuna regione ha contagio zero, infarto aumenta il numero in Lombardia che supera i 520 casi. Il Veneto con 375, il Lazio con 357, la Toscana con 300. La maggior parte dei positivi sono asintomatici, molti sono già in isolamento, ma gli osservati speciali, veri numeri che definiscono la gravità della situazione, sono i ricoveri ordinari e le terapie intensive, indice della pressione del virus sul sistema sanitario. Terapie intensive che stanno lentamente ma costantemente crescendo in tutto il paese. Per ora le strutture sono ancora lontane dallo stress della prima fase. Al sud però ci si avvicina il 50% dei posti occupati. L'esplosione di nuovi casi potrebbe mandare in crisi l'intero sistema. Il motivo più importante è per contenere i contagi, rispettando rigorosamente ogni regola di sicurezza. Noi qui combattiamo con 80 posti letto di medicina pieni e con la terapia intensiva per due terzi piena. Quindi noi qui combattiamo per far divertire la gente fuori e non ci sono. Inizia così lo sfogo del dottor Petracca, responsabile della terapia intensiva del Covid Hospital di Casal Palocco, la terza struttura romana dedicata esclusivamente alla lotta al coronavirus. La terapia intensiva regge, ma per il resto l'ospedale è pieno. Abbiamo assistito a un progressivo aumento del trend di contagio a partire dal periodo post vacanze, post agosto. Non è possibile che la gente non capisca che questo virus è pericoloso. La terapia intensiva, le statistiche sono drammatiche. I pazienti che entrano in terapia intensiva al 40, al 50% e alcune terapie intensive al 60% moriranno. Questi italiani se lo devono mettere in testa. I numeri e le testimonianze di chi è in prima linea ci dicono che a Roma la situazione è tornata come prima del lockdown, ma l'età media dei ricoverati si è abbassata decisamente. Il più giovane qui al Covid Hospital di Casal Palocco ha 17 anni. Io ho l'impressione che siamo all'inizio di tutto quello che può arrivare quest'inverno. Ne sono purtroppo convinto, nel senso che abbiamo avuto un'impernata troppo importante. Le regole, ragazzi, sono poche. Bisogna indossare la mascherina, bisogna sanificarsi le mani, bisogna distanziarsi dal punto di vista sociale. Non è difficile. E seguendo queste poche regole, ma importanti, secondo me, fino al momento in cui arriverà, speriamo questo benedetto vaccino, ce la possiamo fare. Mascherina sempre per evitare altre restrizioni. Così il Premier Conte è intervenuto poco fa. Prorogato lo stato d'emergenza fino al 31 gennaio. Augusto Cantilmi. Usare la mascherina sempre all'aperto e anche a casa quando si ricevono parenti ed amici. Così il Presidente Consiglio Conte, al termine del Consiglio dei Ministri, con la proroga dello stato d'emergenza al 31 gennaio. Le mascherine, i dispositivi di protezione, d'ora in poi bisogna portarli con sé quando si esce di casa e indossarli. Indossarli in ogni caso, a meno che non ci si trovi in una situazione di continuativo isolamento. Per far rispettare la norma prevista e multe fino a 1000 euro per chi non indossa la mascherina, da Conte l'invito ad essere prudenti anche a casa. Noi anche in famiglia dobbiamo stare attenti. Ci sono persone anziane, fragili, vulnerabili. Ebbene, rispettiamo anche in famiglia, nelle abitazioni private, la distanza. Proteggiamo anche loro con le mascherine se ci avviciniamo. Se riceviamo amici, conoscenti, familiari che non convivono con noi, stiamo attenti. Quelle, come ci dicono gli esperti, sono occasioni. Oggi le relazioni familiari, amicali, in cui più si diffonde il contagio. Le regioni non possono adottare norme meno restrittive di quelle del governo, mentre le regole per la quarantena non cambiano. Record di contagi giornalieri in Francia. Quasi 19.000 i nuovi positivi. Chiusure parziali e coprifuoco in mezzo a Europa. Luigi Ferragliuola. Bruxelles chiude bar, sale da ballo e tavole calde per un mese a partire da domani dopo un'ulteriore impennata del coronavirus. Per una settimana di seguito il Belgio ha registrato più di 3.000 casi al giorno. La capitale belga è diventata la seconda città europea più contaminata dopo Madrid. Nel resto del paese i locali chiuderanno alle 23 e non si potranno frequentare più di tre persone oltre il nucleo familiare. In Belgio sono 10.000 i morti per la pandemia, su quasi 12 milioni di abitanti. Chiusura totale dei locali in tutta la Scozia centrale, tra cui Glasgow e Edimburgo, per due settimane a partire da venerdì. Chiusura dei locali dalle 23 alle 6 anche a Berlino in Germania. Invece hanno superato le 210.000 vittime gli Stati Uniti. I casi di contagio sono arrivati a 7 milioni e mezzo di persone. Gli USA restano il paese al mondo più colpito in termini assoluti dalla pandemia, seguiti da India e Brasile. Brusco aumento dei contagi anche in Gran Bretagna. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 15.000 casi. I contagi complessivi sono oltre 530.000. Le vittime in Spagna sono arrivate a oltre 32.000. Quasi la metà dei nuovi contagiati, oltre 5.000, si trovano a Madrid. Ed il Covid è ancora terreno di scontro tra il Presidente Trump e il suo rivale alla Casa Bianca, Biden. Nella notte italiana il confronto TV tra i due candidati alla vicepresidenza. Antonio Soviera A poche ore dal primo faccia a faccia tra i due candidati alla vicepresidenza degli Stati Uniti d'America, Mike Pence e Kamala Harris, Donald Trump offende pesantemente il rivale democratico Joe Biden. È un matto da anni, tutti lo sanno, e ha un quoziente intellettivo molto basso, scrive il tycoon, che accusa i media di essere di parte e di nascondere le notizie negative sull'ex vice di Obama. In un secondo tweet, il Presidente incarica, che non avrebbe sintomi Covid-19 da 24 ore, attacca anche la Harris. È molto più a sinistra del pazzo Bernie Sanders. Biden non durerebbe un mese, scrive Trump, che ieri, nonostante l'isolamento, sarebbe entrato nello studio ovale. La Casa Bianca smentisce, ma il giallo resta. Alle tre della notte italiana, i due candidati vicepresidenti si sfideranno nel dibattito al Salt Lake City. Tra loro ci saranno due schermi di plexiglass. Forse mai nella storia statunitense il duello tra i vice è stato così importante. Vista l'età avanzata dei candidati alla Casa Bianca, il o la vice potrebbe subentrare nel caso in cui il Presidente eletto si trovasse fisicamente impedito. Rientriamo in Italia. Parliamo medaglie d'oro alla memoria per Willy Monteiro Duarte e per Don Roberto Malgesini. L'alta onorificenza arriva dal Presidente Mattarella. Leonardo Possati. Due uomini pronti, senza esitazione, a mettersi a fianco ai più deboli. Willy Monteiro Duarte e Don Roberto Malgesini, entrambi esempi di dedizione e generosità per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, devono essere un riferimento per le future generazioni. Willy, ucciso dai suoi coetani dopo essere intervenuto in difesa di un suo amico, picchiato al punto da perdere la vita, rappresenta un raro modello di altruismo. Per questo il Capo dello Stato gli ha conferito la medaglia d'oro al valore civile, alla memoria. Don Roberto Malgesini, sacerdote che si occupava dei poveri e senza tetto ucciso a Como, per anni con instancabile abnegazione si è fatto ultimo tra gli ultimi, senza risparmiarsi fino al giorno in cui veniva brutalmente colpito con numerosi fendenti e ucciso da un uomo al quale aveva sempre dato piena assistenza e sostentamento. Alla sua memoria Mattarella conferisce la medaglia d'oro al merito civile, luminoso esempio, dice il Capo dello Stato, di un eccezionale impegno cristiano al servizio della Chiesa e della società. Parliamo di ambiente, il pianeta è malato, il buco dell'ozono ha raggiunto la sua massima estensione. Il punto da Nicola Ferrante. Carcasse di foche, polpi ricci, granchi, pesci, immagini impressionanti dalle spiagge russe della penisola Kamchaka. Morti il 95% degli esseri marini, surfisti e sub hanno riportato ustioni anche senza toccare l'acqua. Gli scienziati parlano di disastro ecologico, di proporzioni mai viste. Il Ministero dell'Ambiente parla di fenomeno naturale e nega incidenti industriali. La stampa punta il dito contro un carburante per missili fuoriuscito da una vicina base militare. Il 2020, ricordato anche come l'anno del pianeta malato, dalle ultime rilevazioni di Copernicus, il servizio meteorologico europeo, il buco dell'ozono ha raggiunto la sua massima estensione sopra il polo sud con concentrazioni pari a zero. E sempre Copernicus segnala che il mese di settembre è stato il più caldo mai registrato. Quasi due gradi sopra le temperature della serie tra il 1981 e il 2010. Un andamento eccezionale già dalla primavera con 10 gradi superiore alla media e in estate 5 gradi in più. Ormai fa caldo anche in Siberia e i ghiacciai artici spariscono. Servono cristiani coraggiosi in lotta contro le ingiustizie. Così stamani Papa Francesco all'udienza generale. Paolo Fucili. Quanto bisogno abbiamo noi di credenti, di cristiani zelanti, che agiscano davanti a persone che hanno responsabilità dirigenziale col coraggio di Elia per dire questo non va fatto, questo è un assassino. Francesco addita così a tutti l'esempio del profeta Elia, uomo integerrimo lo descrive, incapace di compromessi meschini, poi implora dalla Madonna del Rosario, festa di oggi. La grazia di essere uomini e donne integri e degni di fede. Udienza del mercoledì in Aula Nervi. Quando la tenevo solo in tv dalla biblioteca, senza fedeli, causa pandemia, mi sembrava di parlare a fantasmi, racconta oggi a Il mio Papa, edizione spagnola. Poi incoraggia la Pontificia Accademia delle Scienze, riunita in assemblea, ad affrontare la pandemia rispondendo anzitutto ai bisogni degli ultimi della famiglia umana e arrestare lo sviluppo di devastanti armi biologiche, aggiunge, è una responsabilità etica anche della scienza. Nonostante la pandemia che sta prostrando l'economia globale, proprio in questo periodo i patrimoni dei miliardari del pianeta sono aumentati di oltre un quarto. Marco Burini. Forse l'avevamo intuito. Probabilmente vi abbiamo contribuito, comprandola qualunque sull'impero online delle merci. Fatto sta che durante la pandemia i ricconi, i billionaire, sono ingrassati un altro po'. Per la precisione del 27,5% tra aprile e luglio. Lo dice UBS, banca svizzera spesso al centro di frodi e scandali che conserva una bella fetta di quella montagna di soldi. Ma questa è un'immagine da fumetto, quando la realtà non è affatto divertente. Mentre milioni di persone in giro per il mondo perdono il posto di lavoro e non sanno come arrivare a sera, c'è un pugno di miliardari, poco più di 2.000 persone, che si sono arricchiti grazie ad abili speculazioni finanziarie. Oggi i soldi si fanno con i soldi, oppure con la pigrizia e la paura a uscire di casa, come nel caso di Jeff Bezos, patron di Amazon, che quest'anno ha guadagnato 74 miliardi di dollari e adesso ne conta 189. Era dai primi del Novecento che non c'erano così tanti soldi nelle mani di così pochi individui. Un'ingiustizia che la crisi non ha frenato, anzi, aumenta sempre di più. In arrivo dal 15 ottobre le cartelle fiscali sospese durante la prima fase della pandemia. Interessati 15 milioni di cittadini e 3 milioni di imprese. Giuseppe Caporaso. Via Libera dal prossimo 15 ottobre all'invio delle cartelle fiscali per 18 milioni di italiani dopo la sospensione per diversi mesi a causa della pandemia. Ritornano così le cartelle fiscali per 15 milioni di cittadini e 3 milioni di imprese che hanno multe o altri pagamenti da effettuare. La conferma arriva dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, in audizione al Senato. Sarà detto una ripresa progressiva che si svilupperà nel corso dei mesi e il volume degli incassi complessivi da riscossione per l'anno 2020 risulta pari a 6,4 miliardi di euro. L'obiettivo dell'Agenzia delle Entrate è di evitare le file che potrebbero crearsi dal 15 ottobre e puntare su un sistema di appuntamenti negli uffici. Non mancano però i problemi e le polemiche sull'ondata in arrivo di milioni di cartelle con il rischio di pignoramenti di stipendi e pensioni a 18 milioni di italiani. Non all'altra la crisi devastante tra chiuture, licenziamenti e tagli e dall'altra le indicazioni del Ministero dell'Economia di ritornare all'invio delle cartelle sattoriali anche per rimpinguare le casse sempre più vuote del di Castero. Gli italiani non hanno più in tasca nulla soprattutto i commercianti stanno soffrendo alcune serande non si rialzeranno mai più c'è bisogno di una dilazione è vero che possono rateizzare alcuni importi ma è altrettanto vero che molti non sono in condizioni di pagare assolutamente nulla per questo noi chiediamo che il governo ripensi a questa varanga di cartelle sattoriali che intervenga e che dia la possibilità di pagare agli italiani con un più respiro soprattutto pensando a un'economia che deve risollevarsi e non deve lasciare indietro nessuno. Sfrattata la solidarietà Roma amarezza per una casa rifugio per donne maltrattate che dopo le proteste dei residenti non ha potuto aprire i battenti il telefono rosa è stato costretto a rinunciare al progetto Barbara Masulli Quando mi si dice non vogliamo qui donne che hanno subito violenza e che soprattutto non vogliamo i loro figli io vorrei che queste stesse persone che fanno queste affermazioni venissero a visitare le case rifugio Case rifugio come questa dove le donne vittime di violenza vengono tutelate e accompagnate in un percorso di reinserimento nella società dopo l'inferno subito in famiglia ma la casa rifugio che sarebbe dovuta sorgere in un quartiere signorile di Roma Nord non ci sarà l'associazione Telefono Rosa aveva vinto un bando comunale per trasformare un appartamento sequestrato alla criminalità organizzata in una casa rifugio appunto ma il progetto è saltato perché i condomini dello stabile si sono opposti sostenendo che l'arrivo di queste mamme e mogli maltrattate avrebbe comportato una svalutazione delle case oltre al depreciamento degli appartamenti i condomini contestano anche altro le case rifugio potrebbero essere oggetto anche di movimenti di persone che vanno e vengono le case rifugio hanno 24 ore su 24 personale specializzato c'è un regolamento approvato dal comune e dalla regione nel quale ci sono i limiti entro i quali loro si debbono muovere per la prima volta nel campo della scienza il Nobel per la chimica è stato assegnato a due donne il prestigioso riconoscimento viene diviso equamente tra la biochimica francese Emmanuelle Charpentier e la chimica americana Jennifer Duna le due ricercatrici hanno messo a punto la tecnica che taglia in colla il DNA e che permette di riscrivere il codice della vita questo sistema ha permesso negli ultimi anni di sviluppare nuove terapie contro i tumori e potrebbe rendere possibile la cura di diverse malattie ereditarie e per effetto del covid preoccupante il calo degli esami per i tumori al seno le neoplasie individuate in fase più avanzata avranno minori probabilità di guarigione Alessandra Camarca il timore di contrarre il coronavirus nelle strutture sanitarie ha dissuoso le persone dal seguire screening diagnosi e il trattamento delle patologie non covid-19 le conseguenze sul cancro ad esempio nel tempo potrebbero essere significative e molto negative lo dice uno studio che mira ad analizzare dati e fornire stime riguardanti la sospensione temporanea dello screening per prevenire il cancro al seno il carcinoma della mammella è la causa più frequente di carcinoma è la tipo più frequente di carcinoma nel genere femminile secondo lo studio che abbiamo pubblicato i casi che non vengono rilevati grazie alla mancata attività di screening vanno dai 10.000 ai 16.000 a seconda della mancata attività di screening anche in questi mesi che sono seguiti dopo il termine del lockdown questo nostro studio vuole anche esortare le cittadine italiane a riprendere con fiducia l'attività di screening e di verifica periodica e di accedere con serenità alle strutture ospedaliere che possono offrire questi servizi secondo la fondazione Veronesi durante i mesi di chiusura il 20% dei pazienti oncologici ha saltato di propria volontà trattamenti e appuntamenti già fissati ed ora la storia di Suor Lucia Corradin una vita dedicata ai piccoli pazienti dell'unico ospedale pediatrico dei territori palestinesi a Bethlehem la corrispondente Alessandra Buzzetti L'aspetto educativo del personale è stato l'elemento più critico e l'elemento anche di successo L'emergenza coronavirus non è finita a Bethlehem ma ciò che importa a Suor Lucia Corradin è di aver messo a punto un efficace sistema di protezione per garantire assistenza ai piccoli pazienti del Baby Caritas Hospital unico ospedale pediatrico dei territori palestinesi messi a dura prova dalla pandemia anche dal punto di vista sanitario Stiamo lavorando per avere un altro presidio ospedaliero dice il governatore di Bethlehem le difficoltà sono però davvero tante a partire da quelle economiche per procurarci le necessarie apparecchiature per affrontare il coronavirus La pandemia è per Suor Lucia Francescana Elisabettina l'ultima sfida della sua missione in Terra Santa la sua comunità religiosa lascerà definitivamente Bethlehem a dicembre dopo 45 anni a servizio dei piccoli palestinesi Quello che abbiamo tentato di fare è un approccio olistico e una maggiore interazione con le famiglie e in particolare non solo la mamma ma anche la figura del papà è diventato un elemento fondante Tra i tanti volti impressi nella memoria di Suor Lucia c'è quello di Abed ricoverato da solo in fin di vita la mamma bloccata a Debro il padre uscito dalla prigione appena in tempo per un ultimo abbraccio al suo bimbo di 4 anni Non potrò mai dimenticare la capacità di quel bambino che solo sentendo la voce del papà riesce ad alzarsi dal letto un bambino di 4 anni e a chiamare suo papà e questo bambino farà di tutto per far festa quel giorno al papà e lo saluterà perché quella notte stessa quel bambino morirà Diciamo che l'incontro con la sofferenza e soprattutto la sofferenza dei piccoli ha cambiato il mio modo di pregare tutto quello che è legato al romanticismo della nascita di Gesù a Betremme ha avuto un altro spessore di vita che l'incarnazione è proprio farsi carne entrando nella vita delle persone Inaugurata a Roma una nuova area archeologica arricchita da contenuti tecnologici ed effetti multimediali per mostrare le bellezze dell'Aventino uno dei colli meno noti di Roma la voce narrante è di Piero Angela Francesco Durante Mosaici strutture e reperti di vario genere datati tra l'VIII secolo avanti Cristo e il III dopo Cristo dai primi terrazzamenti nel banco di tufo dell'Aventino fino ad una sontuosa residenza un angolo segreto dell'antica Roma in un'area archeologica unica nel suo genere perché situata all'interno di un complesso residenziale privato la Domus Aventino questo scavo archeologico verrà anche presentato al pubblico grazie alla scatola archeologica che è una sorta di contenitore realizzato attraverso le più moderne tecnologie anche ingegneristiche e che consente di conservare in situ i reperti straordinari rinvenuti tracce di un paesaggio urbano del passato restituito alla collettività grazie ad un allestimento originale arricchito da effetti di luce e da video con la voce narrante di Piero Angela è interessante vedere i gusti dei proprietari delle matroniche ah no questo non va più bene non è più di moda ne facciamo no insomma tra le pietre parlano dopo la scomparsa del vescovo Monsignor Giovanni Dalise Papa Francesco ha affidato l'amministrazione apostolica della diocesi di Caserta a Monsignor Tommaso Caputo arcivescovo prelato di Pompei e al via alle 21.50 le poche cose che contano tre serate event su TV2000 con Simone Cristicchi assieme a Don Gigi Verdi fondatore della Fraternità di Romena Silvio Vitelli tre serate di musica certo persino con canzoni inedite ma anche soprattutto di riflessione Simone Cristicchi ci porta alla scoperta del senso della nostra esistenza attraverso dieci parole sono le poche cose che contano le cose che davvero contano sono poche in realtà se si fa una ricerca dell'essenza di ciò che ci serve per vivere meglio a partire da parola coraggio per poi arrivare alla fiducia alla speranza all'amore la creatività il talento l'umiltà ci è richiesto il coraggio per lottare con Simone gli attori Francesco Pannofino e Cecilia Dazzi le cantautrici Amara e Simona Molinari è lui il padrone di casa Don Luigi Verdi fondatore della Fraternità di Romena da dove verrà trasmesso il programma da stasera per tre puntate ogni mercoledì alle 21.50 vorrei che stasera le persone fossero aiutate davvero ad ascoltarsi un po' di più ad alzarsi e non lamentarsi più e guardare un po' meglio questo nostro mondo era il nostro ultimo servizio grazie per averci seguito vi ricordo il meteo poi il rosario per l'Italia da Milano presieduto dall'Arcivesco un signor Delpini a seguire appunto le poche cose che contano di Cristicchi il TG2000 torna domani alle 12 buon proseguimento di serata grazie a tutti